Il 25 ottobre prossimo saranno trascorsi due anni dalla morte di Filippo Ceravolo, il giovane sorianese di 19 anni che è stato ucciso per errore perché Eva ha chiesto un passaggio per tornare a casa ad un amico, probabilmente vero bersaglio degli assassini. E così in una zona chiamata Calvario finisce la vita di Filippo stroncato da una scarica di pallettoni sparata da un fucile imbracciato per uccidere qualcuno. Filippo, un giovane senza grilli per la testa, sportivo, si alzava presto per seguire le orme del padre con la bancarella nei mercati di tutta la regione e il malgrado non fosse implicato in nessuna vicenda giudiziaria è stato ucciso dalla mafia. In questi due anni il Papa Martino si è dannato per cercare di trovare una spiegazione a quello che gli è successo e per far riconoscere alle istituzioni questa sconcertante verità e finalmente ci è riuscito, Filippo ora può essere considerato vittima di mafia. È stato un riconoscimento che ringraziamo a tutte le forze dell'ordine del lavoro che hanno fatto, il prefetto di Vibo Valencia, a tutti i cittadini che sono stati vicini, da Vibo, da Soriano e anche di chi era il ragazzo e chi è la famiglia come sta combattendo. Malgrado tutto ciò la fiaccolata per le strade di Soriano contro la mafia prevista proprio nel giorno del secondo anniversario della morte di Filippo è stata sospesa. Purtroppo siamo stati costretti a prendere con un rammarico, con un grande delusione, ma è stata dura prendere questa decisione perché purtroppo noi combattiamo la mafia. A Soriano c'è mafia, c'è qualcuno che a Soriano dà degli ostacoli e chiediamo un intervento dall'istituzione dall'alto, dai carabinieri, dalla polizia, dalle forze dell'ordine, anche dal ministro, da qualche parte che una vittima di mafia non può essere trattata così. Come ricorderete allora Filippo? Noi facciamo la messa privata, logicamente è sempre dedicata per Filippo e due anni, è sempre dedicata contro l'andranglia, contro la mafia, contro tutti questi, diciamo, per non succedere quello che ho passato io, Io volevo dedicare questa manifestazione a tutti i miei paesani e non alla mafia, però sentendo dire rintorni certe associazioni che hanno fatto dei votanti e dire no per la fiaccolata di Filippo e qualche murmura nel Soriano che dicono che stiamo esagerando, a me mi hanno massacrato un figlio e io sto combattendo per loro, perché io ho visto centomila vittime di mafia, di quelle che non capiscono, però è libera, la partecipazione è libera, ognuno corrisponde alle proprie parti.